Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati a un nuovo episodio di A Plague Tale, capitolo 10, linea di sangue. Alla ricerca di risposte sui misteriosi sogni di Yugo, i fratelli incontrano nuovamente Sofia, nel cuore dell'isola, scopre una mappa basata sul simbolo dell'ordine, che li conduce a un santuario un tempo appartenuto agli alchimisti. Lì assistono in nascosto a un rituale pagano, ufficiato dal conte e da sua moglie, che desiderano diventare i genitori del figlio delle braci, ovvero il nostro Yugo. Amicia e Yugo scoprono l'esistenza di un precedente portatore della macula, Basilius, e della sua protettrice, Elia, che venne allontanata dal bambino e imprigionata in un forte. Ora i Derune seguono le tracce dei loro predecessori, nella speranza di trovare un modo per salvare Yugo. Eh sì ragazzi, una linea di sangue che continua a vivere attraverso la nostra coppia di fratelli. Dobbiamo trovare la torre rotonda e siamo qui con Sofia. Non riesco a sapere cosa era, io non più. Ma almeno abbiamo una pista, pragmatica, semplice. Perché non ritorno a vedere questa carta? Soprattutto se tu sai dove si trova questa torre. Sì, perché non. Tutto questo è una fredda. Ma non riesco a credere che tu sei all'allata al cuvento. La mia madre è issu di una famiglia ricca. Ebbè immagino. No. Concordo. Adesso non ti cruciare su questo, Yugo. I sogni vanno interpretati. Parola di psicologo. Psicologo. Allora ragazzi. Andiamo avanti, tra l'altro c'ho un casino. Farò delle grosse gaffe di gameplay perché sto giocando a Final Fantasy IX, a God of War Ragnarok. Ho tutti i tasti sballati. Comunque dobbiamo trovare una torre rotonda. Ora. Io sinceramente non mi ricordo di una torre rotonda. Ok. Forse possiamo andare di qua adesso. Vediamo, eh. Non penso però. Nope. Ragazzi, il conte e la contessa, però vogliono Yugo. Potrebbero veramente essere un ostacolo. Alla nostra ricerca. Dicevo, è molto interessante comunque il fatto che ci sia questa linea di sangue. Eh niente, non posso parlare. Sì, sono ancora felici. Questa linea di sangue dicevo che si perpetra e che in qualche modo può far pensare a una sorta di reincarnazione, no? Della portatrice. Della protettrice, del portatore, perdono. Ah beh, sì, questo senza dubbio. Che belli questi balli. Eh, Sofia, sei in mezzo. Guardate il bambino com'è contento. Che faccia, però inquietante. Vi reputo abbastanza inquietanti, ragazzi, tutti. Però sono contento che vi stiate divertendo. C'è il nostro tour là-bas, no? Eh bien, un'altra parte o meno. Tutto è serio. Come potremmo trovare qualcosa di utile, qui? E' forsemmo qualcosa. Il passato non muore mai, Yugo. Le bribi di questo passato hanno viaggiato fino a te rêve, no? E questo sanctuario aveva ancora molto a noi riveler. Senza dubbio. Ci sarà qualcosa in questa cappella. Ok. Gli possiamo entrare. A che cappella ti riferivi, Amicia? Va dentro, dobbiamo andare. Trova la torre rotonda, perfetto. Ok, forse vuole parlarci in intimità. Forse voleva veramente solo sollevare Yugo. Ah no, ok. Voleva parlarci in intimità. Eh sì. Oh, scusami, Sofia. Qual è l'alternativa? Eh, Sofia, non ci sono alternative. L'alternativa è consegnarlo nelle mani dell'ordine che probabilmente lo torturerebbe ancora. Fino a poi a farlo morire perché è l'unica soluzione per fermare l'impatto della macula. Per cui, certo che questo viaggio è un fardello. Certo che gli eventi a cui stanno assistendo questi due giovani sono traumatici. Però, non abbiamo alternative, purtroppo. E questa è una cosa che anch'io ho iniziato a comprendere dopo, ma... Amicia tutta la mia solidarietà per fare quel che fa. Hai ragione. La porta è ferme, eh. Che novità. Diamo un'occhiata in giro. Oh, anche qui è bello alto, eh. Ok. Che tenere però che sono. Tutti i personaggi che ci sanno fare tantissimo con i bambini, eh. Persino Arnaud, a suo modo. Seppur scorbutico e brontolone, è un po' duro nei modi. Si è rivelato paterno. Nei confronti del nostro brother. Ok. Bene, siamo fullati. Allora, seguimi, caro. Di qua si scende. Di qua si torna indietro, ok. Mi era sembrato di aver visto un altro prompt di interazione, per cui ho avuto il dubbio. Ah, ma infatti, ma che cavolo sto facendo? Eh, scusate, è chiaro che non dovessi scendere, in realtà. Ma quindi? Forse potevo salire ancora e non me ne sono accorto. Oh, c'era un altro prompt di interazione. Cosa serve salire qua? Ah, forse ho capito. La finestrella? Yes, sì, solita gag. Ok, ok. Perfetto. Va bene, un po' di backtracking, abbiate pazienza, ma... Come vi dicevo, anche il fatto di giocare più giochi contemporaneamente in questo periodo non è d'aiuto, eh. Tendo a scordarmi il tipo di meccanico e confondermele con quello di un altro titolo. Andiamo su! Che belli i rumori però, mamma mia. Siamo pronti. Boss fight? Perché queste avvertenze, cara Sofia? Eh, esatto. Diciamo che un forte... Di per sé, sembra meno ospitale rispetto a un santuario, eh. Poi vedremo un po' quanto è popolato. Questi caricamenti, ragazzi, inaccettabili, ripeto. Qu'est-ce qu'il y a? Una tempetta approccia. Come tu lo sai? Io lo sai. Il è triste. E tutto questo è a causa di un sogno. È quando la gara di ferro e ferro cambiare la tua vita? Il giorno in cui sono diventata adulta, è una bella fleur. Tu la vuoi? Certo. Il fu Tintin, è a me che gli offriva le fleur. Il tempo passa, mio trésor. È vero. Oh, ragazzi. Spero davvero che non succeda qualcosa di brutto, Hugo. Sì, c'è bello qui. Restare qui non ti aiuterà, Hugo. Dobbiamo andare. E poi... Una tempetta approccia. Belli dialoghi. Diciamo, Hugo. Tu hai già offerto una fleur a una figlia di tuo age? Io preferisco le plume, ora. Ah, passiamo a delle cose più palpitanti. Le fleur, le plume... Le plume, è meglio. Perché? Perché le te fanno voler. Mi comprendo. Non ti voli all'inizio, s'il te plé. Si fa grandicello, Hugo. Ma non credo sia interessato alle altre bambine. Oh, grazie. Ti metto un uoio in basso. Ok. Andiamo. Vediamo se riusciamo a finire l'opera di farlo crollare. Con la balestra. Ah, pensa a te. Si può creare un collegamento, una meccanica nuova. Non mi aspettavo di trovarne... Altre adesso. Credo fossimo già a buon punto del gioco. Però è... Molto bello che continuino ad introdurre nuovi strumenti di gameplay. Allora. Non la seguiamo, eh, signori. Guardate questa vista. Magnifique. La mer ti manca già? Non ancora. Ma ci sarà. Ma... Tu ne vas pas partir maintenant, eh? Non. Non prima di aver rimborsato la mia debta per la tua sœur. Qua? Non ti ha raccontato? Non mi ha salvato la vita. Oh, eh, beh. Non l'ha fatto. Ah, beh, e direi. Tiene la soffia. Ok, ehi, 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 aspetta, aspetta. Tu vai pure dritta, che qua c'è sicuramente un segreton. È un bel segreton su questa bellissima spiagione. Questo bato ha l'air très, très vieux. Oui. Chi sait ce qu'il pourrait bien nous raconter? Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leur bato se casse comme ça? Certains survivent. Alcuni, sì. D'autres sont emportés par la mer. Et dorme pour toujours. Ah, bien, c'est un beau, c'est un beau, c'est un beau. Bel modo di metterla, esatto. Ah, merci, Sophia. De rien. Dato direi che Hugo non debba aver paura di ricevere ulteriori traumi, per cui non c'è bisogno di edulcorare la realtà. Allora, vediamo se possiamo creare qualcosa, però, a livello di miglioramenti. Nulla? No. Abbiamo poche risorse, eh. Non sto facendo un'esplorazione troppo accurata, devo dire la verità. però, laddove posso, cerco di andare a spirciare. Non mi aspettavo un'ambientazione marina in Requiem. Ah, la cappella è quella laggiù? Ok, sì, la vedo. Ai, 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 ai. Eccoci qua. Appunto, non c'è bisogno di edulcorare la realtà. Un prigioniero. Un prigioniero. Un prigioniero è stato incatenato qua. Interessante capire com'è morto, perché sembra avere un buco in testa, proprio. Come se si fosse preso una pietrata dalla fionda di Amicia, ma chiaramente non è così. Potrebbero essere stati gli uccelli a beccarlo. Potrebbe essersi fracassato da solo la testa, piuttosto che restare imprigionato lì. è sottoposto alle intemperie e alla ferocia dei gabbiani. Ragazzi, i gabbiani fanno una paura incredibile. Sono veramente inquietanti. Non so se avete mai provato a guardare negli occhi un gabbia... Oddio. Ha dei segni sulla schiena come di frustrata, eh. Ai, 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 ai. Ok. C'è chi? Non so. Resti a bensare. Oh, ecco altri. Ce ne sono altri, mannaggia. Sofia, dove sei? Mi dispiacerebbe usare il tuo potere. Ma non me lo fai fare. Forse perché questa non è sterpaia che può bruciare. Ho avuto quella. L'altro si sono fuori. Merda! E chi è quello? Ai, 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 cosa fanno qua? Schiavisti, esatto. Non possiamo buttarci? Forse finché... La via non è libera. Ok. Dovevo aspettare che finisse il dialogo. Oh, cavolo! Oh, no. No, no, no. Cazzarola. Quick time event. Presto. Ah, Missia ci mette poco. È a farsi salire la carogna. Ragazzi, non vi consiglio di scherzare con lei. Ecco. Adesso però ci siamo separati dalla nostra contrabandiera preferita e dal nostro fratellino. Ah no, ok. Ok, ok, per fortuna. Allora. Vediamo un po'. Oh, cazzo. Non mi ero accorto che c'era uno lì sopra. Oh, non obblisca. Battene. Battene ti becchi un dardo. Io qua te lo dico e qua te lo confermo. Anzi, mi sa che il dardo te lo becchi comunque. No, 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 no. Pari qui. Arrêtele. Che cosa, Missia? Non è solo con noi. Abbiamo desiderato. No, no, no. Troppo ignorante, troppo ignorante. Veramente sto giocando come se stessi giocando a God of War. Non è solo con noi. Abbiamo desiderato. Non è solo con noi. Oh, no. Uccidimi, uccidimi. Uccidimi, uccidimi. Scusate ragazzi, per un attimo l'ho convinto di essere Kratos. Abbiate pazienza. Ehm, no. Anche se... Che palle! E va bene! Ma no. Questo com'è che ce l'avevo davanti, mo? No, 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 no. No, no, no. Non si fa così, non si fa... Eccoci qua. Ok. Ok. Mi dai un checkpoint dove non ho nessuno davanti, please? Ok. Allora. Stiamo un attimino calmi. Allora, io l'approccio aggressivo lo adotto perché comunque... Tutto sommato è utile. Sì, diciamo che ci tocca farlo, ma in realtà diciamo anche che ci perdiamo un po' di gusto. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. E non voglio sapere, Sofia. Buon, fai ce che devi fare. Ok. A questo punto ci dovrebbe essere quello bardato ancora, però siamo sbarazzati di un bel po' di nemici. Esatto. Tu sei quello bardato. Preso. Uh. Mi ha fatto il barbecue, eh. Guardate qua che sfilettata. Molto aggressivo, molto aggressivo. Io non vi consiglio di giocare così, ma vi dà soddisfazione. Che vedevo di... Tra l'altro è terribile vedere come bruciano i corpi, eh. Amicia, sei un mostro. Veramente un mostro. Ok. Ancora nulla da creare. Abbiamo preso un coltello. Cerca di non pensare, esatto. O c'è qualcun altro, mannaggia. Che hai? Di là si sale e mi sa che è esattamente dove dobbiamo andare, perché qua la via c'è preclusa. Ok. Troveremo un'altra strada, no problem. Adesso possiamo utilizzare il potere di Sofia. saliamo in alto che avere una visuale dall'alto è sempre un'ottima cosa. Sì, è vero, quello è un tempio. Tempio stile romano, peraltro. Piano di Milo. Come ho fatto a non morire? Ah, cavolo! Perdona, mi caro. Non volevo privarti della tua morte. Ok, adesso siamo del gatto, eh. Ci arrivo? Sì, che ci arrivo. Ok. Continuiamo a fare la nostra strage. Che sta succedendo? Poverini, cioè, veramente... Cioè, poverini, no? Sono dei bastardi di prima categoria, però... ovviamente non sanno neanche che cosa li stia colpendo. E ci piace che sia così. Allora, quello ha l'elmo, eh. Non troppo simpa quelli con l'elmo. Ok. Io mi preparo un basetto con l'Ignifer. E non ho paura di usarlo. Quanto ragazzi, le risorse abbiamo capito che in questo gioco vanno utilizzate. Tipo... Ah, però, mannaggia. Ah, sta cosa. Non è la prima volta che muoio in maniera così idiota. No, 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 no. Eh, ma sono respawnati alcuni, mannaggia. Vieni qua, vieni qua. Più vicino, baby. Ok. Il prossimo. Allora. Ok. Questo lo potrei accoltellare, però. Dice un maledetto. Perfetto. Allora, sono tanti, ma se non sono troppi è abbastanza gestibile qua la situazione. vediamo un attimo. Ok. Mamma mia. Perché ci sono degli schiavisti, eh? Non c'è un angolo cieco da cui prenderlo bene, questo. Oh, dardo, ottimo. Vedete che sì, alla fine le risorse è meglio utilizzarle perché poi si trovano. qua siamo carichi. Perfetto. Allora, tecnicamente salendo da qua sopra forse dovrei riuscire a beccare l'altro. Esatto. Non abbiamo ancora pulito, eh? Non mi fai un commento se abbiamo pulito? No, direi di no. Ok. Vaso, perfetto. Ora. Secondo me dovremmo essere vicini all'aver completamente ucciso tutti i personaggi qua. C'è un'altra corda che possiamo sfruttare per ok crearci un varco all'interno del tempio. Bene. No, secondo me non ne arrivano altri anzi questa potrebbe essere l'occasione per esplorare bene l'area. Per cui scendiamo. eccoci qua. Allora. Cerchiamo di raccogliere tutte le risorse. Sì, alla fine io sono convinto che la cosa migliore sia veramente liberarsi di tutti gli avversari all'interno di un'area perché poi tutto sommato si può esplorare a tal punto che si riescono a craftare abbastanza risorse per poi superare l'area successiva. E così si riesce a mantenere un gameplay loop tale per cui dovremmo farcela più o meno sempre. Allora, non voglio essere troppo ottimista però tolti i miei errori veramente marchiani. Ecco qua. Stiamo morendo meno rispetto all'inizio. Ecco. Ah, qua avremmo potuto fare la stessa cosa. E ok, dai. Mi ritengo abbastanza soddisfatto di questa esplorazione. Direi che possiamo entrare all'interno di questo tempio. Schiavisti, eh? Un bel problema. Ora cerchiamo di capire che cosa sta facendo. Allora, da dove bisogna passare? La porta sembra bloccata da molto tempo. Dunque. non si apre ovviamente. Allora. Se passiamo da qui sotto riusciamo ad aggirare l'ostacolo. Ok. Ah, perfetto. Quindi di nuovo la stessa meccanica. Però ho visto che c'è anche una sorta di argano. Ah, quindi avrei dovuto prima sfruttare l'argano. Pardon. Facendo un po' di giri inutili oggi. Sì, sì, sì. Allora, sicuramente con questo possiamo sollevare il lampadario. ok, e ancorare la corda lì. Sembra pesante però, quindi dobbiamo ordinare un compagno di farlo. Ok. Allora. ok. Ah, certo. Lo utilizziamo come ariete. Perfetto. ok. Ah, perché il sogno, Yugo, non ti può mostrare tutto Astenuante, sì Allora No, no trabaio perché tanto non possiamo fare nulla Vediamo se qua non c'era qualcos'altro che mi sono lasciato indietro Nope Ok, presumo che avremo a che fare con un bel po' di schiavisti adesso Sono già in tensione Qua c'è qualcosa? Questi ambienti così aperti, semi aperti Mi creano un po' di problemi perché ho sempre l'ansia di lasciarmi indietro qualcosa Probabilmente è esattamente ciò che sto facendo Però credo che da lassù si possa risalire Qua? Ah, ok Ok, no Per fortuna era la via secondaria Ah, sì? Non sono più oscuri della gente senza dubbio Corvo, sin dai tempi storici la superstizione popolare lo accomuna a cattivi presagi e stregoneria In parte per il suo piumaggio inquietante e ridescente Ma anche perché si ciba di tutti i cadaveri che incontra Un corvo che appare in sogno rappresenta l'autometamorfosi Questo spirito guida aiuta a scoprire poteri celati nei recessi più bui della nostra mente La sua piuma dona la forza necessaria a superare grandi cambiamenti E la promessa che qualcuno vegli su di noi nell'arto viaggio della vita Ok Ok Haiya Basetta importante il tipo Quanto pare evidentemente avevo ragione La contessa non era una così brava donna Ai 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 Le derive dei culti ragazzi Il fanatismo a cosa porta Combien d'homini le rai devorano in attenzione a ton miracolo Tu hai mai veramente avuto la foi Ma che ti preghi D'accordo Dio santo Ok, credo che lui non diventerà nostro amico Oddio Oh, santa cielo Questa non me l'aspettavo Eh Aiaiai Hugo Di sicuro non abbiamo dato il buon esempio Eh, giusto Sofia C'è quel piccolo dettaglio Sì ragazzi, ma corriamo nel frattempo Non sono io che li sto facendo camminare Dobbiamo raggiungere Hugo Ah, sì Lo capisco Hugo, ascolta Alla Sì Alla 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 Comunque anche Sofia l'ha presa tutto sommato bene Io sarei scappato a gambe levate Eccoci qua D'altronde non posso neanche biassimare Mi si aiuto per non averglielo detto Ok qua presumo che dovremmo utilizzare la nostra corda balestra ma In che modo esattamente Eccoci qua Ok perfetto nella maniera più classica Che ci hanno appena insegnato perfetto Riteriamo questa meccanica Ok Quindi questo è l'andare avanti E allora questa sarà l'area opzionale Suppongo No Oh mio dio Ah si a questo punto anch'io Allora Qua però C'è il segreto a questo punto O forse dovevamo per forza proseguire di qua Non mi sono guardato troppo intorno Oh cavolo Oddio Dio santo ragazzi Un enfant Un enfant Esclavo Terrificante Non C'è Pas Possible Purtroppo Es Possible Oddio Oddio Oh mio ragazzi Eh si a giudicare dal sangue Sull'albero Sull'albero direi proprio di no Mio dio Terribile Terribile Veramente terribile E anche un bel souvenir Che abbiamo collezionato Una bambola di pezza Di una bambina schiava Morta incatenata a un albero Fantastico Inutile dire come anche questa sequenza di schiavi legati e ricordi tantissimo la parte finale di The Last of Us parte 2 Cosa fai? Starnutisci? Bravo che ti starnutisci sul gomito Molto bravo Vieni qua Scusa Hugo Hai ragione Anche colpa mia Ti sto facendo veramente vedere Il peggio del peggio No nessuno può dire che ci mancherà però Ma sta arrivando un altro Simpaticone Con tanto di elmo Allora Puoi uscire? Ha allertato agli altri però Temo di sì Ok Avanti il prossimo Chiunque tu sia Ok Non c'è problema Non c'è problema Ok ok Siamo in ballo E abbiamo un altro vasetto Ottimo I vasetti ormai sono l'equivalente di granate Trovarli È veramente tanta roba Dio santo Voglio sapere cosa ci attende all'interno del forte Ok Morte e dolore E angoscia Questo è vivo? C'è uno dentro la gabbia Ma è morto? Sarà morto? Sì Probabilmente sì Allora Ho sbagliato Mannaggia A me Dio santo Vai Veloce Ok Vai vai a vedere Ok Torniamo a farci strada in questo modo Che l'asso Che l'associa qualcosa Oh Ottimo Un altro coltello Mio dio Ah Yugo Veramente non guardare Dio santo Ben peggio che schiavisti Sadici Torturatori Questo è un persino peggio dell'inquisizione Che schifo E' da umitare Pensare che C'è chi veramente Faceva queste cose Allora Troppo distante Allora andiamo prima di qua Ragazzi Sinceramente non mi faccio Particolari scrupoli A uccidere questa gente So che dopo La ramanzina Che Amici ha fatto A Yugo Sarebbe meglio Dare il buon esempio Ma Mi trovo dei Tali schifosi Che Non mi faccio Nessun problema A bruciarli Viti Tocca Tocca andarci Chi è che ci ha visto Merda Un arciere Qua muoio 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 Forse no Forse no Forse no Forse no Forse no Si sanno che siamo qui ma Possiamo studiare una contropensiva Allora Mica tanto Questo si Questo lo ammazziamo Questo pure Ok 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 Perfetto Altre preziosissime Casse Abbiamo anche un coltello Craftiamo Ok Un dardo Ottimo E qua Qua possiamo passare di sotto Ma non ce n'è bisogno Perché tanto Il nemico L'abbiamo eliminato Ok Direi che abbiamo fatto un buon lavoro Ragazzi Non sbaglio Non dovrebbe esserci più nessuno Qua sotto Cosa c'è La cassa Ok Perfetto Opla Ok Ci siamo Ci siamo però Perché ci manca qualcuno Dov'è Dov'è finita Sofia Oh no Ragazzi Questa cosa Ah si Si Mi sei mancata Che altro Il dubbio Che non bisogna entrare di qua No Infatti Cavolo Prima mi ha mostrato Un R3 Per capire dove andare Ma Si Bene Ok Sta diventando una gag Ah ok Dobbiamo passare di qui Perfetto Ecco Pensa a questo I mulini Ma il suo modo per restare è concentrato Lasciatelo stare Preferite che si concentri sulle bambine morte Ok Oh no Oddio Eccoci qua No no Aiuto Ripaga il debito Sofia Ripaga il debito Ok Siamo a pari Tiralo via per favore Quello che si dice è un peso morto Ah ah Esatto Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no E' finito alchimiche aggiuntive, sinceramente ora non ne sento il bisogno. Ah ok, ha aperto lei la sala cinesca. Mamma mia! Onde è lei? Amicia? Cosa? Si è arrivato? Non, non mi sento! No, è tutto! Sono arrivati troppo tardi! Iniziamo! Plumi! Sofia! Bt salvo per favore! Oh mio Dio! È... È... È io che vi ho fatto venire! Non è questo che mi porto! Non panica! Riflesci! Guarda tu! Ok ragazzi, riflettiamo, pensiamo e nella prossima puntata cerchiamo di capire come andare avanti. Sono molto preoccupato per la nostra amica lo scorpione di mare perché questi ratti sono tanti e spero che sia riuscita a portarsi in salvo, penso proprio di sì. in ogni caso dovremo capire come riuscire a superare questa zona ma come vi dicevo lo faremo nella prossima puntata. Mi è molto piaciuta la parte in cui Yugo ha usato i suoi poteri per uccidere quei maledetti schiavisti e Amicia l'ha rimproverato. Come abbiamo detto più volte nel corso di questa serie lei cerca di preservare l'innocenza del suo fratellino cerca di fare in modo che lui non si sporchi le mani ed è molto bello pensando che lei per prima ormai è compromessa, lei per prima al di là di come la sto ruolando, io di come sto giocando ha compiuto una serie di stragi una dopo l'altra ma il fatto che continui ad avere come priorità anche davanti al pericolo di morte come quello a cui si è trovata in faccia più volte ma specialmente prima quando poi è stata Sofia a salvarla, ecco il fatto che gli abbia detto guarda hai fatto comunque bene a non attaccare a lasciar gestire la cosa a noi, beh è incommiabile, è incommiabile, veramente un'ottima protettrice, non solo perché è forte e valorosa ma perché lo sta anche proteggendo dalle brutture del mondo alle quali ormai da troppo tempo questi due fratelli si sono sottoposti per così dire. Ok ragazzi, grazie allora per aver visto anche questo video, noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao! Ciao! Grazie.